Che stai facendo, Ribet? Che stai facendo, Ribet? Che devi di poterti nascondere da me? Se puoi trovare il pezzo di ricambio... Se ti serve, è qui. Spero tu abbia ragione. La distruzione del dimensionatore sembra che ha causato una sorta di cataclisma dimensionale. Se non riesco a trovare Ratchet... Tranquillo, Lattini. Rimetti in sesto. Promesso. Sì! Adoro un lavoro ben fatto Bene, dov'è l'uscita? Bene, dov'è l'uscita? Un lavoro da combattimento intergalattico Consegnatemi pure i cappotto e tutte le vostre armi Ormai dovrei esserci abituata Dov'è che ci si iscrive? C'è un terminale su quelle enorme pareti a vetri in fondo Ti piacerà? Vieni a vedere Non credo i miei occhi Prima che emerge vittoriosa dalla dell'estazione della battaglia Esultate, ma dioci miei Esultate! Non riuscirai a completare il mio riuscito nel corso Senza chiedere dal tuo destriero? Corriacide! Squedosa! Espoltafaccia! Disargasso! Ho aggiunto in forza il mio piano diробi vielenù! Toriii! Grazie a tutti. Dieci squiglioni di anni fa, prendiamo la sovrana sulle paludi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.